Dai che dopo partiamo pian pianino, facciamo il corteo con i remaggi davanti per arrivare alla chiesa, vai! A vorrei l'applauso lui! A vorrei l'applauso lui! A vorrei l'applauso lui! A vorrei l'applauso lui! faremo un grande concerto, siete tutti invitati. Siamo pronti? Sei pronto? Ma ti ha servito un bel parole!